Ciao a tutti, io sono Gabriele, sono uno degli spaghettister e con gli altri membri del mio team abbiamo creato questo video per farvi avere qualche informazione più rapida e più precisa circa quello che facciamo nel nostro progetto. Allora, quello che avete visto all'inizio e che vedete anche adesso che si sta disegnando è il logo del nostro equipaggio ed è un logo che ci servirà per fare il Mongolia Charity Rally. Che cos'è il Mongolia Charity? È una corsa non competitiva che va da Londra a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, ma è anche e soprattutto un mezzo di beneficenza perché ogni team iscritto all'arrivo dona non solo il veicolo con il quale ha fatto tutto il viaggio, ma dona anche la somma di mille sterline all'associazione inglese GoHelp, che è un'associazione che ha già in ballo alcuni progetti in Mongolia per implementare la sanità e la cultura delle popolazioni locali. L'equipaggio è composto da otto persone, noi siamo otto amici di lunga data, amanti di viaggi on the road e dell'incontro fra culture e il nostro progetto è quello di cucinare sul nostro percorso il nostro piatto nazionale, gli spaghetti al pomodoro. Ogni qualvolta quindi ci fermeremo con il furgone, cuciniremo della pasta che daremo gratuitamente a chi vorrà fermarsi a fare due chiacchiere con noi e a dividere un pranzo. Questa iniziativa ha già avuto il sostegno e il supporto di ActionAid, un'associazione di carità a livello internazionale e attualmente stiamo anche per concludere un accordo con il comune di Milano perché patrocini l'impresa. E se anche a voi questo progetto piace, abbiamo una pagina Facebook molto attiva sulla quale potete trovare informazioni, aggiornamenti e notizie circa lo stato delle cose, un account Google Plus o Plus che dir si voglia e un canale YouTube. Per adesso questo è tutto e vi rimandiamo al nostro prossimo video. Grazie e supportateci. Ciao!